Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag torrecampana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo promesso quest'oggi andremo a parlare più nello specifico della questione riguardante il Project Biluga. Project Biluga che non è nient'altro se non il nome in codice dei prossimi titoli Pokémon in arrivo su Nintendo Switch. Nome in codice che ovviamente non è una novità perché questi nomi sono sempre stati in circolazione anche per i titoli precedenti. Occorre precisare che la fonte che ha rivelato questo nome non è una fonte ufficiale ma comunque è una fonte decisamente autorevole. Si tratta dell'utente del web Pixelpar che a quanto pare, per quanto io non ne abbia mai sentito parlare, ha una buona voce in capitolo a riguardo visto che questo rumor si è diffuso come verità universale in giro per il web. Di certo il nome Project Biluga non è un nome campato per aria e questa è una cosa che sicuramente va a influire sulla veridicità presunta di questo leak. Infatti stiamo parlando di un nome in codice che fa riferimento ad un particolare animale esistente sul nostro pianeta. Si tratta per l'appunto del Biluga o della Biluga o non so come si pronunci che vive nei mari attorno ad Alaska e Gronellandia. Ora, questo animale non è chiaramente un animale casuale, si tratta infatti, come si potrebbe intuire dal nome, dell'animale dal quale il creatore ha tratto ispirazione per creare il Pokémon leggendario di seconda generazione Lugia. Quindi il nome in codice dei titoli di ottava generazione pare fare riferimento a un Pokémon leggendario di seconda generazione. Perché questa cosa? Chiaramente non torna a questo concetto. Come potrebbe un Pokémon di seconda generazione leggendario far parte in maniera fondamentale dei titoli di ottava generazione, se non con un remake di un remake di un altro remake? Insomma, questa cosa ha davvero poco senso. E quindi cerchiamo di capire il perché di questo nome. Lugia apparirà come Pokémon fondamentale all'interno della trama dei titoli di ottava generazione? Calma. Proviamo a spiegare il perché questo non è di certo confermato dal nome in codice. Come vi dicevo all'inizio, i nomi in codice sono sempre esistiti e sempre esisteranno per quanto riguarda la pubblicazione di nuovi giochi Pokémon. Andiamo a prendere il nome in codice di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Nome in codice molto particolare perché per i più, diciamo, svegli di memoria era Pokémon Rainbow, quindi Pokémon Arcobaleno. Non vi fa scattare un campanellino questo nome? Per chi non ci fosse ancora arrivato, Pokémon Rainbow e quindi l'Arcobaleno è un riferimento più o meno indiretto al Pokémon leggendario di seconda generazione Oh-Oh. Oh-Oh che sappiamo essere la controparte di Lugia. Potrebbe questo avere dunque una sorta di nesso logico con il fatto che il codice invece di Pokémon per Switch sia biluga? Sì, potrebbe avercelo, assolutamente. Tra l'altro c'è un altro fattore molto interessante da mettere invece in evidenza. Il nome in codice di Pokémon Sole e Luna, ossia Pokémon Rainbow, combacia perfettamente con quello che fu il ventesimo film Pokémon, dove per l'appunto nei vari trailer appariva il Pokémon leggendario Oh-Oh. Mentre invece sappiamo che in questo nuovo film, nel ventunesimo, nei trailer vediamo Lugia. Vediamo Lugia e vediamo il secondo Pokémon di seconda generazione leggendario. E il fatto che il nome in codice di Sole e Luna fosse Rainbow legato a Oh-Oh, che era presente nel ventesimo film, e che invece quello di ottava generazione sia biluga, quindi riferimento a Lugia, che invece è nel ventunesimo film, potrebbe far scattare effettivamente una lampadina nel nostro cervello. In Pokémon Sole e Luna, ovviamente Oh-Oh non è stato un Pokémon principale, anzi è stato relegato in un ultravarco fino alla fine dei suoi giorni. Da questo potremmo dedurre che anche in ottava generazione, Lugia non sarà sicuramente presente in maniera fondante all'interno dei giochi. Potrebbe piuttosto avere la stessa fine di Oh-Oh. In sintesi, pare che i nomi in codice dei giochi Pokémon possano fare riferimento ad un'altra opera, fra tante virgolette, in questo caso un film, uscita più o meno nello stesso periodo, e che quindi svierebbe in un certo senso l'attenzione dalle fattezze reali dei giochi Pokémon, dei quali il nome in codice copre la vera identità. Ci sarà dunque Lugia nei giochi di ottava generazione? Dipende. In sostanza, credo che il nome Project Biluga faccia riferimento al film Pokémon, e non tanto a una presenza fisica o comunque fondamentale del Pokémon stesso all'interno dei giochi di ottava generazione, così come fu per Pokémon Rainbow, per Oh-Oh, e per Pokémon Sole e Pokémon Luna. Insomma, il nome in codice non è esattamente campato per aria, ma sicuramente non è indicativo di qualcosa all'interno del gioco, anche perché essendo un nome in codice, essendo fatto proprio per mascherare l'identità dei giochi, sarebbe molto stupido. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un iscrizione al canale, se siete ancora iscritti. Vi ringrazio per la visione, ho fatto il video in Facecam perché voi avete deciso che sia così, avete deciso che i video, news, teorie e robe del genere finiscano in questo modo, e quindi d'ora in poi li farò tutti in Facecam. Vi invito a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale, a premere la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed, e poi ogni giorno possiamo parlarne, ma questi sono dettagli. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!